bella raga benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo avanti con l'esplorazione quindi ci facciamo una spada diciamo così subito facendoci una spada ok un piccone che non si fa così ma si fa così e poi il resto lo mettiamo via e prendiamo qualche blocco le torce ci dobbiamo fare assolutamente quindi ne prendiamo tre ok facciamoci delle torce ok possiamo andare andiamo con calma andiamo di là la vede già un creeper che ci attende felicemente cosa che ce l'ha una cassa ci dobbiamo andare assolutamente dobbiamo andarci allora posizioniamo intanto i blocchi andiamo piano che non voglio perdere niente quindi qua mettiamo la torcia ok andiamo avanti per di qua quindi andiamo perché sento rumore ah c'è lo zombie non possiamo recuperare dei blocchi tipo questo no allora dobbiamo cercare di recuperare dei blocchi prendiamo questo qui ok abbiamo otto blocchi e ce li faremo abbastare maiale cavolo mi stavo già spaventando ehi che lag mi stavo già spaventando ok voglio andare a prendere quella cassa che c'è lì quindi prendiamo un po' di blocchi e siamo qua sospesi nel vuoto ok vediamo cosa c'è uuuu perla dell'end ma la mettere via subito qua non so perché ma possiamo facere un buco e non abbiamo cibo vero no niente cibo quindi vuol dire che ammazzeremo quel porco anzi no ci facciamo una farm di maiali andiamo su con can ok adesso possiamo andare su con can chissà se c'è ancora quello zombie di prima eeeh quanti maiali ora tu muori tu muori nooo non potevo tenermelo spagnolo di ossa eeeh già nooo sapete cosa dovrei tipo farmi eeeh uno spawner però intanto lo chiudiamo così qua cos'è? no questo non mi interessa questo questo non mi interessa se vado a essere al supermercato e scegliere cosa prendere o no questo lo teniamo questo questo non mi interessa questo non ci interessa ok espiriamo un po' la zona sento degli scheletri ma no eeeh quanta roba quanta roba quanti blocchi c'è il piccignacolo io se efficienza chi ci indistruttibilità no no non siamo ancora pronti intanto mettiamo un po' di torce qua che non fanno male secondo me c'è uno spawner uno scaletto possiamo scattare quello lì invece eeeh vediamo eeehm spacchiamo questo spacchiamo Ok Dicendo i letti possiamo salvare la partita Aspetta che mi faccio una crafting table Così La piazzo Qua Esatto Poi No, aspettate un attimo Qua E qua Accetta Fatta Adesso Andiamo di qua Non mi sparate Io vi controllo Potenza 3 Madonna Uh, potenza 3 Tecnicamente Lo ho shot Ehi, mamma mia Che è sta cosa qui subito Lo ho shotta Coins Il coin serve Per Commerciare con i villager No, 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 no 100 pc Giacomo 100 pc Giacomo Non mi sparare Non mi sparare Spazio E arriva il messaggio Vabbè Piccolo dettaglio Perché sento Perché sento Siamo questo migliore Intanto Fermo, 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 fermo No, no, no Stai, fermo Peppa Pig Non è bisogno di niente Adesso sì che si ragiona Ehm Altri classi in tv Spazio Spergerò le classi in tv Ovunque Everywhere Per farmi questa Che la metterò qua Che poi Mi faccio Il carbone C'era di là Vabbè Usiamo Usiamo Questo qui Ci facciamo la carbonella Ok